Eccolo, sono qua. Ciao ragazzi, buon martedì a tutti quanti. Dai, ci avviciniamo a giovedì dove si giocherà una partita importante di Coppa Italia con la Lazio. So benissimo che in questo momento pensare al campo, alle partite, è un po' complicato e me ne rendo conto io in primis perché comunque ieri c'è stata una sorta di notizia, ma oggi ce ne sono altre e le abbiamo completamente ignorate perché dobbiamo parlare di altre cose che in questo momento sono più importanti, sono prioritarie. Lato Juventus, che comunque ha rilasciato anche un comunicato per quanto riguarda le motivazioni della sentenza, poi andremo a leggerci anche una riga della notte della società. Cosa è successo? Ieri Milik si è stato sottoposto a degli esami strumentali, delle visite di controllo e quindi rimarrà fuori per una lesione di basso grado. Si ipotizza almeno un mese. Ora, vi dico la mia, non la mia opinione, ma la mia esperienza, vi racconto la mia esperienza. Quando mi sono fatto male in finale di YouTuber League, ho riportato una lesione di 7 mm, sono stato fermo circa due mesi, ieri sera sono stato convocato per la prima partita. Ovviamente io sono un non professionista, Milik è un professionista e quindi mi auguro, magari non è nemmeno lo stesso tipo di infortunio, magari una lesione più piccola, in un posto diverso, però sostanzialmente io sono stato fermo due mesi e c'era una lesione muscolare, non so se è della stessa entità, quindi credo almeno un mese, dicevano lo ricontrolleremo tra una ventina di giorni. Secondo me 20 giorni sono anche pochi perché poi ricomincerà la parte relativa al recupero muscolare. Secondo me almeno un mese se non di più, anche perché Milik comunque è un giocatore che dal punto di vista clinico non è proprio perfetto, e quindi temo proprio che lo rivedremo intorno a... è febbraio, marzo, metà marzo, quasi ad aprile, temo proprio che sarà così. Vediamo, spero proprio di no. Tra l'altro oggi mi sono ricordato che è il 31 di gennaio e chiude il calcio mercato. Eh, bello eh? Non ce ne eravamo minimamente accorti. Ieri McKennie ha avuto l'ufficialità, è partito, è stato appunto tesserato dall'IS, è volato in Premier League. Ultimo giorno di mercato. Non credo che sia mai accaduto nella storia del calcio in Italia, da quando seguo il calcio in Italia, perlomeno da quando ho questa passione e porto avanti anche questa avventura sui social, di non parlare di calcio mercato praticamente mai durante il mese di calcio mercato. Ho visto che è stato proprio contenuto in tutta la Serie A. Si è parlato veramente poco, visto che la Roma ha comprato un difensore, ho visto che il Milan ha cercato Zagnolo, però, visto che c'è questa trattativa tra il PSG e l'Inter per Skriniar, non si è parlato di niente. E ovviamente, quando meno te lo aspetti, e dopo che hai già registrato il video, arriva la voce delle voci, perché forse qualcosa lato Juventus si sta muovendo. E quindi, come dice il buon Romeo Agresti, due tracce da sicure in giornata per la Juventus. Il possibile passaggio di Luca Pellegrino alla Lazio, ma di questo se n'era già parlato, è rientro anticipato di Cambiaso dal Bologna. Quindi Cambiaso che torna in bianco-nero invece che andare sul mercato ad acquistare qualcuno, giocatore che è già nostro, richiamiamolo in casa, se si riesce. Secondo me, ottima cosa da fare, cosa che era da fare probabilmente quest'estate. Infatti ero rimasto stupito dall'accessione di Cambiaso in prestito al Bologna. come si vuol dire, eppur si muove, anche se si muovono cose che sono già nostre. Dopo il discorso sulla Serie A e sul mercato rimane abbastanza inalterato. Però dai, eventualmente un volto nuovo in casa di io potrebbe arrivare. Il giocatore è già nostro, però potrebbe giocare sia da destra che a sinistra, quindi mica male, dai. Quest'anno veramente non si è parlato di calcio mercato. E la cosa fa veramente, veramente paura. Fa paura perché poi guardi all'estero e il Bayern prende in prestito Cancelo dal City a gennaio. Giorginio se ne va all'Arsenal, a gennaio. Da noi calma piatta e si registra al massimo un pur parlet di uno scambio eventuale tra Juventus e Roma, tra De Sciglio e Karsdorff. Oppa la la, eccoci qua, eccoci qua, il mercato in Italia nel 2023. Per farci capire che cosa siamo diventati. Siamo diventati veramente la pezza da piedi del calcio che conta. Siamo ai livelli di una Ligan. Tra l'altro forse è peggio perché lì hanno all'interno il PSG che una vera e propria potenza economica. E ovviamente Cantera non è il termine dato perché non li ha presi da dentro, ma gruppo di campioni. Da noi in Italia è campione ormai poco e niente. Quindi veramente quando penso al declino che sta avendo il calcio italiano, perché non è solo un discorso di Juventus, ma veramente non si sta muovendo nessuno, mi viene un po' di tristezza. Perché mi rendo veramente conto che siamo sprofondati e probabilmente siamo in un burrone da quale è impossibile risalire. Voglio passare però a parlarvi ancora una volta della sentenza. Perché ieri comunque abbiamo fatto un video, io, Kino, Lello e Davon, ve l'ho pubblicato, dura 45 minuti circa. E spero che l'abbiate visto, spero che vi sia piaciuto, ma voglio andare ancora un po' nel dettaglio perché ho visto tanti commenti che non hanno apprezzato il contenuto, dicendo non siete avvocati, non siete laureati, non siete bla bla bla. Ed è la cosa che dico al minuto, credo, zero del video. Sono opinioni personali, sono quello che abbiamo capito, può essere vero così come può essere falso. È la mia opinione personale. Vi interessa? Bene. Sedetevi e ascoltate. Non vi interessa? Benissimo. Nessuno vi obbliga a rimanere qui ad ascoltare la mia opinione personale. Io ho piacere di parlarne, voglio farlo, sono libero di farlo. Se non la vuoi ascoltare, nessun problema. Amici come prima, non c'è bisogno di lasciare commenti antipatici nella sezione, andando ad inquinare una sezione di commenti che solitamente si basa sempre sul rispetto reciproco delle opinioni e delle idee altrui. Quindi questa è una premessa, credo, doverosa. Però se io, che non sono nessuno, che non ho competenze di diritto, leggendo le motivazioni sono arrivato a pormi delle domande che poi per fortuna sono venute fuori anche da chi ha studiato, chi ha avvocato, chi si occupa di queste cose, e sono dubbi che probabilmente pure la Juventus, come c'è scritto nel comunicato, Juventus Football Club e il suo collegio di legale hanno letto con attenzione e analizzato a fondo le motivazioni pubblicate poco fa dalle decisioni delle sezioni unite della Corte federale d'appello. Si tratta di un documento prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidenti illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, con cui società e singoli si opporanno con ricorso al collegio di garanzia presso il CONI e termini previsti. La fondatezza delle ragioni da Juventus sarà fatta valere con fermezza pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso. Io, che non sono nessuno, posso permettermi di dire ho alcuni dubbi, cercate di spiegarmeli, cerchiamo di parlarne insieme, però anche Juventus mi pare di capire che se siamo osse in quella direzione. E cioè, rispetto a quello che avete detto, lo troviamo comunque scorretto perché sono delle motivazioni illogiche all'interno di tutta la documentazione. Lo dico, ieri lo dicevo con Lello, Kino e Davom appena concluso il video, che è rimasto, credo, un'altra ora a parlare senza registrazione. Ci siano giocati una pizza o una birra, o forse tutte e due. Tre a uno, nel senso che sono l'unico che crede questa cosa, gli altri tre sono del parere opposto, ma secondo me ci toglieranno la penalizzazione. Secondo me ci toglieranno il meno 15. E ve lo dico, come sempre, ribadisco, perché è così da ignorante in materia. Però mi pare di capire che ci siano dei punti che Juventus può utilizzare seriamente per cercare di smontare quella che è stata la conferma da parte della Corte, la conferma dell'accusa da parte della Procura. Il punto principale che non mi torna è l'articolo 4 contro l'articolo 31. C'è un articolo 31 che va esattamente nello specifico per quanto riguarda l'alterazione in materia economica, quindi quello che di fatto ha fatto la Juventus, se vogliamo prendere in considerazione il fatto che sia colpevole, perché poi la grande prova di colpevolezza, diceva ieri, è il libro nero di paratici, facciamo finta che la Juve sia colpevole, c'è un articolo nel Codice di Giustizia Sportiva che è l'articolo 31 che va proprio a basarsi su questa cosa qui, quindi false plusvalenze, plusvalenze fittizie, come hanno già comunque pagato anche in passato altre squadre, e si parla di ammenda con diffida. Si parla di punti di penalizzazione o retrocessione nel caso in cui queste plusvalenze siano state eseguite per potersi iscrivere al campionato, che non è il caso della Juventus. E viene anche questo comunicato all'interno delle motivazioni, sono d'accordo anche loro. La cosa che non torna è che c'è una regola specifica che è la 31, l'articolo 31, andiamo quindi a prendere quella lì, e in più prendiamo anche l'articolo 4 che è sulla lealtà sportiva alla quale la Juventus sarebbe venuta meno. Sì, ma perché? Cioè il grande punto interrogativo è questo, perché c'è una norma specifica, prendi una norma specifica, c'è una punizione, per una norma specifica vai a applicare quella. E infatti la Juventus era stata punita con un'ammenda di 800.000 euro nella prima sentenza, ok? Perché si è passati da ammenda di 800.000 euro come ovviamente c'era scritto nell'articolo 31 si è finiti nell'articolo 4 che è generico e vuol dire tutto e niente in cui sono stati dati i 15 punti di ripenalizzazione dopo i 9 richiesti. Anche qui, perché è vero che il regolamento c'è. Qualcuno mi dice il regolamento c'è poi sono i giudici a doverli applicare. Quindi è completamente a discrezione dei giudici. Potevano lanciare un dado. Io ho dei dadi a 20 facce e tiravano uno perché afflittiva vuol dire tutto e vuol dire niente. Cioè ci sono dei punti che non mi tornano. Dei punti che non mi sono chiari. Sempre partendo dal presupposto facciamo finta che la Juventus sia effettivamente colpevole perché la prova e il libro nero è una prova chiave decisiva. Così come la prova la fatturazione modificata a penna dalla Juventus al Marsiglia che viene utilizzata come prova è una fattura che il Marsiglia invia alla Juventus la Juventus compila penna delle correzioni la rimanda al Marsiglia per farle mettere diversamente. Tra l'altro ho scoperto che all'estero prima del 2022 non c'era la fatturazione elettronica comunque il Marsiglia dovrà averla riemessa con le modifiche della Juventus perché era una fattura che non combaciava con quelle che erano intanto addirittura c'era la sede legale della Juventus errata e poi banalmente non veniva modificata nessuna nessuna cifra nessuna cifra le cifre non erano modificate erano modificate altre cose tra cui l'intestazione la sede legale della Juve e i dati dei calciatori che andavano a scambiarsi quindi non specifico a che quindi mi sembra di vedere alcune cose un po' ballerine un po' ballerine ieri facevo l'esempio se parcheggio la macchina nelle strisce in cui c'è per forza di cose l'utilizzo del disco orario c'è una penalizzazione dal punto di vista pecuniaria devo pagare una multa se compio quell'infrazione che la compio una volta che la compio due volte che la compio tre volte se parcheggio 5, 10, 15 volte senza disco orario pagherò sempre a multa per il disco orario perché c'è una normativa che va a specificare che se faccio quella cosa allora devo riconoscere quella cosa non è che se parcheggio 100 volte senza il disco orario allora mi accusano di furto con scasso tentato omicidio terrorismo internazionale rapimento non è che se c'è una sanzione in cui devo riconoscere appunto devo pagare una somma di denaro se la faccio più volte la trasformiamo e paghiamo in un altro modo perché questo è caduto facendo finta che Juventus sia colpevole di plusvalenze fittizie che anche qui bisogna capire cosa si intende perché per me possono pure essere considerate plusvalenze fittizie ma all'interno delle motivazioni c'è scritto che la plusvalenza di per sé non costituisce reato e che non c'è un modo oggettivo di qualificare il valore di un calciatore e nel caso in cui vengano utilizzate plusvalenze fittizie Juventus comunque avrà fatto affari con altre squadre che avranno pompato a loro volta i valori di mercato dei calciatori perché non venitemi a dire che se facciamo lo scambio Petrelli Portanova per Rovella che è uno degli esempi portati all'interno delle motivazioni Petrelli e Portanova sono ipervalutati e Rovella no e quindi il Genoa non stava facendo la plusvalenza fittizia capite ci sono tante cose che non mi tornano e le motivazioni che danno è sì però c'è il libro nero di Paratici che è un foglio di carta non ho un foglio di carta a mostrarvi compilato a mano da Cherubini con quelle che secondo lui erano state delle problematiche degli errori da parte di Paratici nella gestione precedente e con cui Cherubini voleva arrivare in fase di rinnovo contrattuale a spiegare a Juventus guardate queste cose vanno sistemate e anche lì mi fa ridere perché voglio leggervi la parola chiave all'interno delle motivazioni perché Juventus cosa dice per noi questo è un semplice punto di lavoro la corte definisce inquietante questo foglio chiamato libro nero di Fabio Paratici dicendo che Juve dice così secondo noi invece non è così perché è il contesto differente allora vuol dire tutto e niente poi dicono allora è chiaro che questi elementi non possono più essere cambiati sì ma stiamo parlando allora di non di legge di interpretazioni da parte di chi è rappresente all'interno della corte in quella giornata interpretazioni di una persona per quello qualcuno può dirmi non sono d'accordo con te la penso diversamente stiamo parlando di interpretazioni perché il regolamento parla chiaro se hai violato questa norma e mi dimostri che hai violato questa norma c'è un'ammenda con defida che era stata la prima punizione pensata per Juventus 800.000 euro confermata questa cosa si è passata ad 800.000 euro a 15 punti di penalizzazione non lo so a me non tornano tanti punti devo dirvi la verità poi io ci capisco poco e niente di queste cose quindi ora la palla passa alla Juventus non credo di tornarci ancora sopra queste cose perché tutto quello che dovevo dirvi ve l'ho detto ci sono delle cose che non mi tornano l'ho letta mi sono informato sono andato a leggere i punti il regolamento sportivo mi sembra essere abbastanza chiaro nei punti che Juventus avrebbe violato nel motivo per cui Juventus avrebbe compiuto un illecito che diventa illecito perché fatto più volte ma singolarmente non lo è è più di dirvi che a me non tornano e che anche Juventus le ha definite motivazioni illogiche non so cosa dirvi quindi ora la palla passa effettivamente a chi dovrà andare a difendere la Juventus nelle sede opportune quindi agli avvocati della Juventus vedremo quale sarà la strategia difensiva nella mia ignoranza vi dico secondo me ci sono possibilità di farli togliere questi 15 punti poi vediamo che cosa succede c'è solo una una certezza che in questo momento noi ma noi inteso non come tifosi della Juve noi inteso come appassionati di calcio in Italia possiamo solamente renderci conto che è il 31 di gennaio perché guardiamo il calendario e non perché stiamo portando avanti delle trattative ma questo è è la mara realtà e va accettata vi dico che nei prossimi giorni voglio portarvi anche un contenuto inerente al modo di giocare della Juventus perché secondo me si cambierà qualcosa dal punto di vista del sistema di gioco non significa tornare a 4 necessariamente ma qualcosa verrà modificato per la Juventus